Le verità non conosciute, puntata di martedì 25 settembre con dottor Marco Colotti che parla ovviamente di questo esagerato in pochi giorni aumento del petrolio a Barile. Beh sì, diciamo come possiamo vedere da questo grafico praticamente in questo mese di settembre già si erano verificate tensioni in precedenza dove il prezzo del petrolio si era spinto sopra i 70 dollari ma poi era ridisceso e adesso ultimamente abbiamo visto proprio nella giornata odierna risalire sopra i 70 dollari al Barile. Ecco, che sta succedendo secondo lei dottor Colotti sui mercati del petrolio? Ma diciamo che l'aumento del prezzo del petrolio intorno ai 70 dollari era una quota, un prezzo che doveva recuperare dal passato perché forse era sceso anche troppo nel passato e una quota diciamo che nell'ambito del mercato internazionale viene un po' ritenuta normale nel senso che è un prezzo del petrolio che remunera i costi e soprattutto diciamo è un prezzo che sta bene ai paesi esportatori, ai paesi produttori di petrolio come ad esempio la Russia e non a caso ad esempio la Russia si è mossa con l'esercito, con questi interventi in Siria creando turbulenze nei paesi tipicamente esportatori di petrolio, nelle aree calde vicino all'Arabia Saudita, Iran, Iraq diciamo zone diciamo che tipicamente sensibili a quello che accade specialmente quando vengono mossi gli eserciti diciamo in quell'azione il prezzo del petrolio tende a salire. Diciamo che è un andamento che da anni questo del petrolio si alza, si abbassa ma alla fine chi ci rimette sempre il consumatore finale? Beh sì, diciamo che nel passato abbiamo visto anche i prezzi del petrolio su 300 dollari al barile attualmente possiamo anche dire che questa quotazione per quello che riguarda i paesi europei è mitigata dall'euro, dall'euro che è ultimamente riuscito a rafforzarsi sul dollaro infatti la quotazione è espressa in dollari al barile e quindi un euro forte mitica un po' l'aumento del prezzo del barile e chiaramente ogni aumento diciamo della risorsa energetica va a scapito di tutti perché si riflette poi in quello che spendiamo per fare fondimento con le nostre automobili per l'energia delle aziende e quant'altro. Ecco, sulle verità non conosciute le accise sono sempre un talluna di Achille per il povero contribuente perché? Beh perché sì, perché influisce direttamente sul nostro portafoglio appunto quando andiamo alla stazione di servizio a fare rifornimento noi paghiamo un prezzo della benzina e del gasolio che è comprensivo diciamo oltre che del prezzo vero e proprio del prodotto questo prezzo del prodotto viene aumentato delle accise e anche dell'imposta sul valore aggiunto che è un po' un'anomalia del mercato italiano infatti l'accisa genera a sua volta che è un'imposta genera un'altra imposta che è l'IVA e questo accade pressoché quasi solo in Italia infatti negli altri paesi diciamo che l'IVA è imposta sul valore aggiunto viene calcolata sul prezzo del prodotto e non sul prezzo del prodotto più l'imposta di fabbricazione oppure accisa come la vogliamo chiamare Ecco, diciamo che l'economia in Italia deve essere svincolata da questi lacci e lacciuoli che costringono il cittadino sempre di più a soffrire e ad avere dei problemi di arrivare a fine mese Sì, speriamo che questi aumenti, questi costi che gravano sui cittadini vengano un po' mitigati dall'azione del governo Salvini e la Lega tengono a far conoscere la propria politica che è quella di poter diminuire le accise Speriamo che il governo riesca in questa manovra anche se incombe quel cappello delle clausole di salvaguardia che se non migliorano i conti italiani praticamente dovrebbero scattare con l'aumento dell'IVA e anche l'aumento proprio delle accise Che è stato escluso comunque dal governo sull'aumento dell'IVA e anche per le accise ci sarà una riduzione sicura perché c'è un contratto di governo che lo prevede Quindi diciamo che dobbiamo essere un po' ottimisti per quello che sta facendo il nuovo governo Sì, diciamo che il governo mette in campo questi buoni propositi C'è unione di intenti sia per 5 Stelle che Lega sul fatto di andare a disinnescare queste clausole di salvaguardia e quindi trovare le risorse affinché non ci sia l'aumento dell'IVA e delle accise Vediamo un po' Tria che cosa riesce a fare se riesce a trovare le risorse per la copertura di queste manovre Ecco, per le Marche è una regione che ha bisogno di un commissario operativo subito come ha chiesto a Totti per il ponte di Genova dal primo ottobre si metteranno a vedere quello che succede noi è due anni e mezzo che stiamo a vedere ma non mi sembra che sia successo molto, dottor Colotti Beh, diciamo che sotto questo aspetto parlando di quello che è avvenuto a seguito dell'evento terremoto chiaramente i nostri territori soffrono e ancora non hanno visto ripartire una ricostruzione ci sono state queste misure tampone per l'assegnazione delle abitazioni diciamo, però non ci sono stati veri e propri interventi definitivi qui a San Severino fortunatamente abbiamo visto sorgere una nuova scuola che è stata una delle prime in Italia diciamo, in Italia e soprattutto nell'area del terremoto diciamo, un intervento abbastanza veloce per quello che ha riguardato le cause di questo evento speriamo, diciamo, che prosegua in fretta questa ricostruzione e questi interventi che vadano a mitigare gli effetti negativi del terremoto chiaramente un commissario del nostro territorio quale potrebbe essere il nostro senatore, ex sindaco di Visso Pazzaglini che conosce bene il territorio e sa come intervenire in maniera puntuale per mitigare e fare in modo che le nostre aree possano risorgere e rivedere un nuovo periodo di prosperità perché è appunto la conoscenza diretta del territorio che fa di questa persona diciamo, qualcuno che sia veramente in grado di riportare allo splendore le nostre aree Ecco, allora dopo argomentazioni, come si dice seriose, serie parliamo di questa festa diciamo di Asco di fine settimana con l'intervento adesso la data non è conosciuta del Ministro ma si sa che verrà Molteni e verano tanti big e anche Ministri e Vice Ministri ad Ascoli Piceno dove ci sarà anche lei Dottor Colotti Sì diciamo vorrei essere a questo evento in particolare diciamo che è molto importante perché non è facile vedere personaggi di questo calibro venire qua nei nostri territori nella nostra regione Allora possiamo dire anche un benvenuti ai Ministri della Lega nella nostra regione ancora una volta ad Ascoli Ma senz'altro sono benvenuti e mi auguro che prendano coscienza delle problematiche nel nostro territorio e possano ben rappresentarle nelle istituzioni Grazie a tutti Grazie a tutti.